Musica Ben ritrovati all'appuntamento con Toscana Oggi da Riccardo Vigi e Simone Pitossi Andiamo a vedere cosa c'è sul numero del settimanale La Toscana offre l'olio a Francesco Questa è la notizia in apertura perché ogni anno le regioni d'Italia, i comuni offrono l'olio per la lampada che arde sulla tomba di San Francesco ad Assisi Quest'anno tocca appunto ai comuni della Toscana, dunque le diocesi si stanno organizzando per rendere questo maggio Noi ne parliamo all'interno del giornale, ne parliamo anche con un intervento, un lungo articolo di Franco Cardini Lo storico che è autore anche di libri, di pubblicazioni sulla vita di San Francesco Che già dalla prima pagina propone questa sua riflessione sul poverello di Assisi Poi ancora dalla prima pagina invece parliamo della Quaresima appena iniziata Il senso autentico della Quaresima attraverso la geografia della salvezza Questo è il titolo per un intervento, una riflessione proposta da padre Francesco Patton Che è il custode di Terra Santa Dunque una riflessione che arriva proprio dai luoghi che hanno visto la vita e la passione di Gesù Andiamo a scorrere poi all'interno del giornale dove in primo piano troviamo una riflessione su fede e scienza Perché in Vaticano si è riflettuto nei giorni scorsi proprio sui temi della roboetica L'etica applicata alle intelligenze artificiali, alla robotica, alle nuovissime tecnologie E tra gli interventi è anche un'intervista curiosa, interessante Lo scienziato giapponese Hiroshi Ishiguro che ha creato macchine intelligenti dall'aspetto umano Il creatore di Geminoid Siamo destinati a un futuro con gli umanoidi Ma riflette anche su tutto quello che questo comporta per il futuro dell'umanità Continuando a scorrere le pagine di Toscana oggi Entriamo nelle pagine che si occupano di temi regionali Ponti e strade sono osservati speciali anche in Toscana Migliaia sono infatti le infrastrutture a rischio Il monitoraggio arriva dopo il tragico crollo del ponte Morandi di Genova Però in Toscana la situazione non è così critica Ci sono vari criteri che servono per selezionare i manufatti sotto osservazione C'è una squadra di dottori, tra virgolette, dei ponti che esamineranno le strutture Le province, un approfondimento, le province che sono state cancellate e poi risorte Chiedono soldi proprio per la manutenzione di queste infrastrutture E poi procedendo nelle pagine di ragione Troviamo l'annuncio di un incontro nazionale Dei giovani che fanno il servizio civile, che svolgono questo servizio Questo incontro nazionale sarà il 12 marzo a Firenze Sarà al Mandela Forum Il titolo si riferisce alla buona politica che favorisce la partecipazione e la fiducia Che sarà anche il tema che affronteranno i giovani in questa giornata L'iniziativa si ricorda che ricorre nel 12 marzo Che è la data nella quale la Chiesa celebra la memoria di San Massimiliano di Sbessa Un giovane martire di 21 anni proprio per obiezione di coscienza E poi si parla di un accordo del Forum Toscano Delle associazioni per i diritti della famiglia Un accordo di collaborazione a livello regionale con i consultori pubblici Infine c'è stata la conferenza regionale sulla disabilità Che ha visto la nascita di un forum toscano delle associazioni Che si occupano proprio di disabilità E sono circa un centinaio quelle che hanno aderito Andando in attualità un'intervista con padre Yusef Il monaco sirio-cattolico ha raccontato la dura esperienza della guerra in Siria Vivere da cristiani in mezzo a distruzione e morte Questa è l'esperienza che ha raccontato in un incontro E poi si parla sempre di padre dall'olio Che forse potrebbe essere tra gli ostaggi dei jihadisti a Bagut In questa enclave che è rimasta in Siria sotto il controllo dell'Isis Andiamo nelle pagine di Ecclesia La parte di informazione religiosa di Toscana Oggi La rubrica risponde il teologo Con le domande dei nostri lettori ai docenti della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale Stavolta il lettore ha una curiosità Chiede cosa significa esattamente la formula figlio dell'uomo Che viene usata nei Vangeli per indicare Gesù Che lui stesso usa per autodefinirsi Don Stefano Tarocchi, docente di Sacra Scrittura Spiega le varie ricorrenze di questa formula Di questa definizione di Gesù all'interno dei vari Vangeli E poi dicevamo di San Francesco Quindi con l'offerta dell'olio per la lampada Sulla tomba di San Francesco da parte dei comuni della Toscana L'appuntamento sarà in ottobre Il 3 e 4 ottobre per la festa di San Francesco Ma c'è un cammino di preparazione Che le diocesi toscane hanno già iniziato Pensando anche ad alcune attività Ad alcune iniziative che serviranno anche a ricordare Rinnovare i legami che ci sono tra la Toscana e San Francesco La Toscana è il luogo, la regione che ospita il Santuario della Verna Che era così caro a San Francesco Ma anche tanti altri luoghi che conservano varie memorie Legate alla vita, al passaggio di San Francesco Sarà l'occasione per riflettere anche sullo stile di vita Che il francescanesimo oggi ci propone Questi temi e ci sarà anche un documento Una lettera che i Vescovi della Toscana hanno scritto Che sarà diffusa nei prossimi giorni In cui invitano tutte le persone a unirsi A questo percorso appunto Che condurrà fino all'offerta dell'olio per la lampada Sulla tomba di San Francesco E così arriviamo ad inventario La parte del giornale che si occupa di cultura, società, arte e spettacolo Questa settimana è l'appuntamento in prima pagina Con la rubrica di Sergio Valzania dedicata alle parole La parola di questa settimana è benessere Un grande dono di Dio e anche una sorta di sfida Valzania appunto ci dice che il benessere Sarebbe meglio dire la sua crescita Che non si interrompe nonostante le apparenze Basti pensare alla diffusione della telefonia È una sorta di sfida Un dono di Dio ricco e complesso Quanto tutti gli altri Che contiene il richiamo alla radice fondante della creazione Gesù Cristo per mezzo del quale tutte le cose sono state create E poi continuando a sfogliare le pagine di Toscana Oggi Di inventario troviamo una storia nel giardino dell'Alzheimer Ovvero abbiamo fatto una visita Mauro Banchini l'ha fatta per noi Al centro ospitato nel seminario di Pistoia Tra persone smarrite che qui trovano sicurezza e protezione Grazie alla grande umanità e professionalità degli operatori L'uomo che balla il Sir Taki è la donna con il pelucci Vi invitiamo a leggere queste storie davvero molto belle E poi una mostra Verrocchio, il maestro di Leonardo Nell'anno in cui ricorre il 500esimo anniversario della morte di Leonardo L'artista di Vinci torna a dialogare con la bottega del suo illustre maestro A cui dal 9 marzo al 14 luglio Palazzo Strozzi dedica una retrospettiva con capolavori inediti Un invito davvero a visitare la mostra Poi le consuete altre rubriche con il cinema e la televisione concludono le pagine regionali di Toscana Oggi Andiamo a vedere le edizioni locali di cui si compone il settimanale iniziando come sempre con la voce di Arezzo Cortona e Sansepolcro Qui si parla della Caritas Diocesana perché è stato presentato il nuovo organigramma La Caritas Diocesana, espressione della nostra identità è il titolo E poi anche alcune proposte per la Quaresima che vengono da Camaldoli Il monastero e l'eremo nelle foreste casentinesi come sempre sono luogo di spiritualità soprattutto nei tempi forti come la Quaresima La parola di Fieso è la testata della Diocesi Fiesolana Si apre con l'annuncio della rassegna diocesana dei cori parrocchiali È in programma il 31 marzo presso la collegiata di San Lorenzo a Montevarchi Quest'anno sono invitate a partecipare le corali appartenenti a tre vicariati I vicariati del Valdarno Fiorentino, a quello del Valdarno Aretino e all'Altipiano Valdarnese E poi un'altra notizia di pastorale familiare Ci sono tre incontri per approfondire il dialogo nella coppia Si svolgono all'oratorio Don Bosco di Figline Questo percorso di formazione inizierà il 17 marzo E si concluderà il 24 maggio con un incontro con Don Renzo Bonetti Sul tema proprio del matrimonio Sull'osservatore toscano siamo in Diocesi di Firenze Si parla della Quaresima di Carità Le proposte che la Caritas, come ogni anno, fa alla Diocesi per un progetto caritativo Quest'anno toccano un tema particolare, un tema delicato e difficile Quello della malattia dei bambini, la malattia grave dei bambini Perché il progetto è quello di costruire a Casamarta Sulle colline vicino a Careggi, vicino anche all'ospedale pediatrico Mayer Un hospice pediatrico Un luogo per ospitare i bambini E se necessario anche i genitori, le loro famiglie Proprio nei momenti più duri, più difficili della malattia Ne parla Don Fabio Marella che è il vice direttore della Caritas E anche assistente spirituale dell'ospedale Mayer Ne parlano anche i genitori di Giuseppe Un ragazzo siciliano che è stato in cura al Mayer Che durante la sua permanenza a Firenze Ebbe anche l'occasione di ricevere da Papa Francesco la Cresima Fu la Caritas a organizzare questo viaggio a Roma Già in una fase difficile della sua malattia Poter realizzare questo sogno pochi mesi prima di morire E così arriviamo alle pagine di Grosseto L'approfondimento di questa settimana è sul tempo di Quaresima Va tempo propizio per l'ascolto Preghiera, digiuno e lemosima Un più intenso ascolto della parola E anche qualche buona lettura spirituale Ecco le strade lungo le quali percorrere il tempo liturgico Che ci conduce al mistero della passione morte E resurrezione di Cristo Queste le proposte che arrivano dall'edizione Grossetana Per il cammino di Quaresima verso la Pasqua Andiamo su Lucca 7 Dove si attende l'ingresso del nuovo vescovo Del vescovo Paolo Giulietti Ma intanto si riflette sulla vita pastorale della diocesi E in particolare sul rischio di individualismo Nelle prassi pastorali e liturgiche Nelle parrocchie ci sono approcci diversi Forse fin troppo Questo appunto è uno spunto di riflessione Che il settimanale propone nelle sue pagine diocesane E invece poi arriviamo all'edizione della Maremma all'Elba Il notiziario della diocesi di Massa Marittima e Piombino Apertura anche in questo caso con la Quaresima In particolare con il messaggio del vescovo Carlo Per il tempo quaresimale Chiediamo al Signore un cuore nuovo Questo il tema del messaggio Il nostro cuore e la nostra mente Sono guidati dalla parola di Dio Che proprio nel primo giorno di Quaresima Mentre ripetiamo l'austero rito dell'imposizione delle ceneri Ci chiama, ci esorta per bocca del profeta Gioele Ritornate a me con tutto il cuore Con digiuni, con pianti e lamenti Laceratevi il cuore e non le vesti Ritornate al Signore vostro Dio Perché egli è misericordioso e benigno Questa una parte del messaggio di Quaresima del vescovo Carlo Su Vitanova siamo in Diocesi di Pisa Riaperta a San Paolo a Ripadarno Questa è la notizia in apertura Un'antica chiesa che viene restituita alla città Un evento che rimarrà nella storia di Pisa La riapertura al culto della chiesa di San Paolo a Ripadarno Una solenne celebrazione con l'arcivescovo Giovanni Paolo Benotto Così arriviamo a confronto Il notiziario della Diocesi di Pitigliano, Sovana e Orbetello Qui l'apertura è sul pellegrinaggio del clero a Monte Oliveto Maggiore Una forte esperienza di comunione Questo è il senso di questo pellegrinaggio E poi anche qui in prima pagina torna il viaggio che faranno le diocesi e i comuni della Toscana Ad Assisi per l'offerta dell'olio Ad Assisi con la diocesi Andiamo sul Raldo Poliziano Diocesi di Montepulciano, Chiusi e Pienza Si parla del Palio dei Somari di Torrita di Siena È un evento molto radicato sul territorio parente del Palio di Siena Che si corre con i cavalli Anche questo però ha una sua tradizione ed è molto sentito nel territorio La notizia che viene annunciata è che quest'anno sarà corso in memoria di Monsignor Giovanni Turchi E così arriviamo alla voce di Prato E anche qui ritorna il tema della Quaresima Il titolo di apertura è La nostra via Crucis È appunto una proposta che arriva nel TEDAL da un testo Nel testo ci sono le riflessioni di un carcerato Di una donna vittima di violenza Di un ex alcolista Il libretto in cui ci sono queste proposte È stato pensato proprio dalla Caritas Dall'ufficio liturgico E dall'ufficio catechistico per le parrocchie Con questo libretto appunto si vuole accompagnare la diocesi In questo periodo di Quaresima Sulla domenica diocesi di San Mignato Anche qui si parla della Quaresima Si propone una rilettura del messaggio di Papa Francesco Per la Quaresima 2019 In sintonia con il creato Questo è il titolo che viene proposto Segnaliamo dalle stesse pagine Anche la visita che le reliquie dei Santi Francesco e Giacinta di Fatima Faranno proprio in diocesi di San Mignato Saranno accolte nell'unità pastorale di Santa Maria a Monte Dal 10 marzo alla 7 aprile L'apertura di Siena con le Valdelsa e Montalcino È su incontro dedicato ai più giovani Ai ragazzi Il tema appunto è proprio Adolescenziamo L'incontro ci sarà il 22 marzo A partire dalle ore 18 E sarà l'ultimo di un ciclo di incontri Proprio presso il centro pastorale di Montarioso Si mette in evidenza come sia necessario in questo momento L'urgenza del confronto E i giovani sottolineano che loro ci mettono la faccia Noi giovani ci mettiamo la faccia Andiamo su Valdinievole Siamo in diocesi di Pesce La voce di Valdinievole apre sul ricordo di Daniela Benedetti Spadoni Con l'esempio di Daniela verso una testimonianza cristiana autentica Si parla di questa giovane donna Per la quale la diocesi ha aperto il processo di beatificazione Dunque l'occasione per ricordarla nell'anniversario della sua morte Così arriviamo a Vita Apuana Il notiziario della diocesi di Massa, Carrara e Pontremoli Sono annunciati in prima pagina una serie di incontri vicariali Da parte dell'azione cattolica Sono incontri che sono rivolti in particolare agli operatori pastorali E poi il Vescovo conferisce il mandato agli animatori dei gruppi di ascolto In ascolto della parola Sull'araldo diocesi di Volterra si parla anche qui della quaresima Con tre semplici indicazioni Digiunare, pregare e fare elemosi Sono queste le opere che come sempre vengono proposte In questo periodo di preparazione alla Pasqua Dalle pagine dell'araldo di Volterra Segnaliamo anche la presenza di Casoledelza Il borgo di Casoledelza Protagonista su TV2000 Della trasmissione alla scoperta dei borghi d'Italia Una scelta evidentemente che rende molto felici le persone Sul territorio volterrano E con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa La presentazione del nuovo numero di Toscana Oggi Grazie a chi ci ha seguito fin qui L'appuntamento come sempre è per la prossima settimana La presentazione del nuovo numero di Toscana Oggi